Ciao ragazzi, come state? Sono qui a dirvi una cosa molto importante e non ho neanche un secondo da perdere. La campagna che ho lanciato settimana scorsa per raccogliere mille sacchi di sangue in tutta Italia, fino a questo momento mi hanno contattato centinaia, migliaia di ragazzi da tutta Italia. Quindi da solo io veramente sto facendo fatica a gestire. Da domani da ospite alle sacco comincerò a chiamare tutti questi ragazzi una quarantina di persone che doneranno il sangue. Poi da Roma, Napoli, Bologna, Palermo, Bari e altre parti continuamente mi stanno contattando. Io tutti i giorni chiamo vari ospedali per fissare appuntamenti, mettere d'accordo sto cercando tanti ragazzi di varie città che possono contattare e anche collegare con tutti questi donatori. Una cosa ho cominciato per avere qualche sacco di sangue, poi ho deciso almeno mille sacchi di sangue. Adesso se andiamo avanti così in tutta Italia potremmo ottenere molto molto di più. Alcuni ospedali mi hanno assicurato che fino ad oggi non mancheranno sangue fortunatamente, però dopo 15-20 aprile sangue loro hanno bisogno. Quindi vi chiedo questa cortesia, mi fate un favore, mi date una mano da solo gestire tutta questa situazione in tutta Italia. Sarà un po' difficile che anche io sto facendo tutto quello che posso. È una cosa importante per tutti quanti, per mia famiglia, anche per vostra famiglia, anche per tutti questi malati. Quindi mi date una mano, chi mi sta guardando questo video, portiamo avanti questo bellissimo progetto. Se non trovo nessuno io vado avanti lo stesso. Il mio obiettivo è essere utile per Italia a questo momento. Prima o poi qualcuno mi ascolterà, mi darà una mano, porterà avanti questa campagna. Vi auguro una buona giornata, state bene e state a casa.